La scrittura opera concettuale che potremmo attribuire al momento, al periodo della pop-arte, quando appaiono queste scritture, queste simbologie, 70 per un metro, Mario Schifano, io innanzitutto vi ringrazio per questa meravigliosa richiesta. La cifra da confermare è di 21 milioni di lire da scontare. Sentiamo, 21 milioni di lire da scontare, sentiamo. Scendiamo a 17 milioni e 850 milioni.